Chekhov, il Vint In una brutta notte d'autunno, Andrei Stepanovich per Esolin tornava in carrozza da teatro. Durante il tragitto meditava sui vantaggi che potrebbe recare il teatro se si rappresentassero lavori di contenuto morale. Passando davanti agli uffici dell'amministrazione provinciale, egli smise di pensare ai vantaggi e rivolse lo sguardo alle finestre della casa, della quale, per esprimersi nella lingua dei poeti e dei marinai, egli teneva il timone. Due finestre, quelle della stanza di servizio, erano illuminate. «Possibile che stiano ancora lavorando alla relazione», pensò Pérez Solin. «Sono là in quattro, quegli imbecilli, e non hanno ancora finito. Non sta mica bene. La gente magari può pensare che li faccio lavorare anche di notte. Andrò su a dirgli di fare in fretta. Ferma! Gurì!» Pérez Solin scese dalla carrozza e si incamminò verso l'ufficio. La porta principale era chiusa, mentre l'entrata di servizio, munita di un unico chiavistello malandato, era spalancata. Pérez Solin si servì di quest'ultima e dopo qualche minuto si trovava già alla porta della stanza di servizio. La porta era socchiusa e Pérez Solin, gettando uno sguardo all'interno, vide qualcosa di veramente insolito. Davanti a un tavolo ingombro di grandi foglie di contabilità, alla luce di due lampade, stavano seduti quattro impiegati che giocavano a carte. Assorti immobili, col volti resi verdognoli dai riflessi dell'abasciur, ricordavano gli ignomi delle favole o, Dio ce ne guardi, dei falsari. Il gioco poi conferiva loro un'aria di mistero anche maggiore. A giudicare dai gesti e dai termini di gioco che gridavano di tanto in tanto, si doveva trattare del Wint. Ma a giudicare da tutto ciò che udiva Pérez Solin, quello non si poteva chiamare Wint e nemmeno un gioco di carte. Era qualcosa di inaudito, di strano e misterioso. Negli impiegati Pérez Solin riconobbe Serafim Zvidulin, Stefan Kulakevich, Ermei Nikoevich, Ivan Pisulin. Ma che razza di uscita, diavolo, si arrabbiò Zvidulin, guardando il sasperato del suo compagno di fronte. Ma si può uscire così. Sì, avevo in mano Dorofiev, Stepalev con la moglie e Stepker Kalov, e tu esci con Kofaikin. Ecco, ora siamo sotto di due. Dovevi giocare Pogankin, testa di rapa. Eh già, che cosa ci avremmo guadagnato, si adirò il compagno. Anche se giocavo Pogankin, Ivan Andriaits aveva Pérez Solin in mano. Ma perché tirano un ballo nel mio nome? Si strinse nelle spalle Pérez Solin. Non capisco. Pérez Solin distribuì di nuovo le carte, e gli impiegati continuarono. Banca di Stato. Due, Intendenza di Finanza. Senza tu, eh? Due, Direzione Provinciale. Porca miseria. Tanto a perdere per perdere. Altra volta con l'istituzione pubblica sono andato sotto di una. Stavolta con la Direzione Provinciale mi rovino. Me ne infischio. Piccolo slam di istituzione pubblica. Non capisco, morborò Pérez Solin. Io esco col consigliere di Stato, Vania. Gioco con consigliere titolare o provinciale. E perché dobbiamo giocare un titolare? Possiamo prendere anche con Pérez Solin. Ma noi al tuo Pérez Solin gli diamo nei denti. Nei denti. Noi abbiamo Ribnikov. Andrete sotto di tre. Tirate fuori la Pérez Solina. Non nascondetela nel risvolto della manica. Quella canaglia! Hanno tirato in ballo mia moglie. Pensò Pérez Solin. Non capisco. E non volendo restare più a lungo nell'incertezza, Pérez Solin aprì la porta ed entrò nella stanza di servizio. Se davanti agli impiegati fosse apparso il diavolo in corna e coda, non li avrebbe spaventati e sbalorditi come li spaventò e li sbalordì il loro superiore. Se fosse comparso dinnanzi a loro l'usciare morto l'anno prima e avesse detto loro con voce sepolcrale «Venite con me, angeli, nel luogo preparato per le canaglie», soffiando loro sulle facce il freddo della tomba, non sarebbero impalliditi come impallidirono nel riconoscere per esaurire. Anedoikov, per lo spavento, uscì persino il sangue dal naso e Kulakevich li sentì tamburellare l'orecchio destro e la cravatta gli si snodò da sola. Gli impiegati gettarono le carte, si alzarono lentamente e sbirciandosi a vicenda fissarono gli sguardi al suolo. Per un minuto nella stanza regnò il silenzio. «Ma state ricopiando proprio bene la relazione?» cominciò Pérez Solin. «Ora capisco perché vi piace tanto occuparvi della relazione». «Che cosa stavate facendo?» «Noi, soltanto per un minutino, eccellenza, ma betò Zvidulin, guardavamo le foto e si riposavamo». Pérez Solin si avvicinò al tavolo e lentamente si strinse nelle spalle. Sul tavolo non c'erano carte da gioco, ma fotografie di formato normale, staccate dal cartone e incollate sopra carte da gioco. Le fotografie erano molte. Esaminandole, Pérez Solin riconobbe se stesso, sua moglie, molti dei suoi subalterni e conoscenti. «Che assurdità! E come giocate? Non l'abbiamo inventato noi, eccellenza, dio ce ne scampi. Noi abbiamo soltanto seguito l'esempio». «Spiegami un po', Zvidulin, come giocavate? Ho visto tutto e ho sentito che Rybnikov mi batte. Beh, che hai da dire? Non ti mangio mica? Racconta!» Zvidulin rimase a lungo imbarazzato e spaurito. Finalmente, quando Pérez Solin cominciò ad arrabbiarsi, a sbuffare e a diventare rosso dall'impazienza, obbedì. Raccolte le fotografie, mescolatele, egli le dispose sul tavolo e cominciò a spiegare. Ogni ritratto, eccellenza, come ogni carta, ha un suo valore, un significato. Come nei mazzi normali, anche qui ci sono 52 carte e 4 colori. I funzionali dell'intendenza di finanza sono i cuori, l'amministrazione provinciale e i fiori, gli impiegati della pubblica istruzione e i quadri. Invece picche e la sezione della banca di Stato. Ecco, i consiglieri di Stato effettivi sono gli assi, i consiglieri di Stato, i re, le mogli dei funzionari di quarta e quinta categoria, le regine, i consiglieri di collegio, i fanti, i consiglieri di corte, i dieci e così via. Io, per esempio, ecco la mia fotografia, sono un tre, poiché sono un segretario provinciale. Guarda un po', io dunque sono un asso di fiori e la moglie di vostra eccellenza è una regina. Hmm, è originale. Beh, allora giochiamo, voglio vedere. Pelesolin si tolse il pastrano e sorridendo incredulo sedette al tavolo. Gli impiegati per ordine suo sedettero pure e il gioco incominciò. Il custode Nazar, giunto alle sette del mattino per spazzare la stanza di servizio, rimase sbalordito. Il quadro che vide entrando con lo spazzolone era così stupefacente che, egli se ne ricorda ancora oggi, persino quando, ubriaco fradicio, giace quasi senza conoscenza. Pelesolin, pallido, assonnato e spettinato, stava in piedi davanti a Nedoekov e tenendolo per un bottone diceva Capisci dunque che non potevi uscire con Shepelef, sapendo che avevo in mano me stesso l'asso quarto. Zvidulin aveva Rybnikov e sua moglie, tre professori di ginnazio e mia moglie. Nedoekov avevano i bancari e tre impiegati inferiori della giunta provinciale. Tu avresti dovuto uscire con Kriskin. Non badare se loro giocano in tendenza di finanza. Sono dei furbacchioni. Io, eccellenza, ho giocato un consigliere titolare perché pensavo che loro avessero un effettivo. Oh caro, ma come si fa a pensare così? Questo non è gioco. Così giocano soltanto i ciabattini. Ragionò un po'. Quando Kulakevic è uscito con un consigliere di corte dell'amministrazione provinciale, tu avresti dovuto tirare Ivan Ivanovich-Grenlansky. Perché sapevi che lui aveva Natalia Dimitrievna III e Diego Iegorovic. Hai rovinato tutto. Adesso ti farò vedere io. Sedete, signori. Facciamo ancora un'altra mano. E' mandato via lo sballordito Nazar. Gli impiegati si sedettero e continuarono a giocare. Grazie. Grazie.